In un tardo pomeriggio di pioggia, durante una breve tappa al PAN, l'artista e illustratore bolognese Stefano Ricci ha raccontato alcune sue esperienze pittoriche e sensoriali ad un piccolo pubblico di appassionati, sotto la guida affabulatrice dello scrittore Maurizio Braucci. Da prima disegnatore per la stampa, Ricci ha sviluppato negli anni un preciso stile espressivo e una ricchezza creativa multidimensionale, approdata di recente alle suggestioni del cartone animato e della sperimentazione sonora. Mi è venuto in mente un pezzo di un diario di Walter Benjamin. Sono i diari del periodo in cui lui ha vissuto a Napoli. Dice più o meno. Non è vero che i napoletani non sono interessati alla tecnologia. I napoletani sono interessati alla tecnologia quando si rompe. Lo studio sul suono è stato condensato nel vinile artigianale Chiedi alla Scimmia, prodotto con l'artista e compagna Anke Feuchtenberger.